E bella a tutti ragazzi, io sono Maximus E oggi ragazzi siamo qua Per un nuovo video vlog Come vedete Oggi non è uscito Dan The Man O altre serie Perché oggi Sto facendo un vlog, perché? Allora Ci sono state molte notizie E se è capito, penso che tutti lo sapete E' morto A storie Mi dispiace un casino Mi dispiace un casino Infatti questo video è dedicato a lui Cioè, un ragazzo giovane Dico, 31 anni Non è che siano così tanti Infatti tutte le partite della serie A E' normale, mi sembrava pure giusto Sono tutte sospese Mi sembrava pure giusto Ma oggi leggeremo Qualche notizia sulla sua morte Perché voglio Rispettare perché Era un grande campione 31 anni Morire così giovane Da un attacco cardiaco Non è Non è facile Né per la sua famiglia Né per la sua squadra E nemmeno per i tifosi Quindi non prendete questo video Come una cretinata O una cosa Solo perché Tanto per farla Guardate tutto il video E se potete Condividetelo Così Tutti Sanno Devono rispettare A storie Quindi A tra poco Che vi faccio vedere Qualche notizia A tra poco Ok ragazzi Eccoci qua Su OneFootball Questa è la mia app Di notizie Vi consiglio di scaricarvela Vi da tutte le notizie Di calcio Come pure I momenti più brutti Comunque Stamattina Viene pubblicato Questo Lutto nel calcio E' morto Davide Astori E' morto Davide Astori Giocatore della Fiorentina Una notizia terribile Astori è morto a Udine Dove si trovava la sua squadra In vista di Udine Di Udinese Fiorentina Astori è stato colto Da un malore Ci stringiamo al dolore Della Fiorentina E della sua famiglia Ciao Davide Una notizia terrificante Dopo questa notizia Hanno pubblicato questa Astori I messaggi per il mondo del calcio I messaggi dei social Del mondo del calcio Un modo per dire addio Ad un compagno Un amico Un avversario Infatti come vedete Il Barcellona Rispetto verso Astore Qua pure Guardate Astori Mertens Non ci posso credere Ci siamo incontrati Durante il mio viaggio Di nozze Dove ci siamo molto divertiti Sei un ragazzo bellissimo Pensiera Alla tua famiglia Stessa cosa Per la Fiorentina La Fiorentina Profondamente sconvolta Si trova Costretta a comunicare Che è scomparso Il suo capitano Davide Astori Colto da improvviso malore Per la terribile e delicata situazione E soprattutto per rispetto della sua famiglia Si fa appello alla sensibilità di tutti Poi pure la Lazio Attonita incredula Piange la tragica e prematura scomparsa di Davide Si unisce al concordo della famiglia e della AC Fiorentina Matteo Renzi pure Mi sembra impossibile Sono incredulo e piango con la sua famiglia Con tutta la Fiorentina Ciao capitano Pure il Milan ragazzi ce ne sono tantissimi Il video sarà questo Se non vi piace non mi interessa Comunque Milan Un ragazzo innamorato del calcio e della vita Cresciuto con noi L'AC Milan E' scioccato dalla tragica scomparsa di Davide Un dolore immenso Le più sentite condoianze alla sua famiglia Alla AC Fiorentina Zanetti Riposa in faccia Davide Non ci sono altre parole Questo non lo Leo fa L'ha pubblicato Non so cosa vuole dire Però penso che sia Condoianze alla famiglia Gli amici E' la AC Fiorentina Capitano italiano Internazionale Non so leggere Qua pure Buffon Ciao caro Asto Difficilmente ho espresso pubblicamente un pensiero riguardo una persona Perché ho sempre lasciato che la bellezza e l'unicità di rapporti di reciproca stima e affetto Non venissero strumentalizzati O gettati in posto a chi non ha la delicatezza per rispettare certi legami Nel tuo caso sento di fare un'eccezione alla mia regola Perché hai una moglie giovane e dei familiari che starebbero soffrendo Ma soprattutto la tua piccola bimba merita di sapere che suo papà era a tutti gli effetti una persona per bene Una grande persona per bene Eri l'espressione migliore di un mondo antico superato Nel quale Valori come altruismo L'eleganza L'educazione e il rispetto verso il prossimo La faccenda da padroni Complimenti davvero Sei stata una delle migliori figure sportive Nella quale mi sono imbattuto Rip Il tuo folle Gigi Umberto Gaddini che non so chi è Scusate ma non so chi è L'ho conosciuto nel settore giovanile a Milan E poi incontrato molte volte nel corso della sua carriera Sentita condoglianza la famiglia Rip Davide Qua sempre il dolore Non si può descrivere Una cosa del genere ha scritto Vincenzo Montella Poi Il Marsiglia Non capisco C'è pure Francesco Totti Allora vediamo l'associazione FIFA sarebbe Alla federazione calcio Rappresentando il sentimento dei dirigenti Dei tecnici e del personale che in tanti anni hanno conosciuto e apprezzato Davide Nel suo corso con le nazionalità Esprime il proprio cordoglio alla famiglia Astori Francesco Totti Scioccante, incredulo e senza parole Questa tragedia Sono vicino alla famiglia e agli amici di Davide Astori Rudy Garcia La notizia della prematura scomparsa del mio ex giocatore Davide Astori Mi addolora Professionista e ragazzo esemplare Sono vicino alla famiglia e ai suoi cari Riposa in pace Davide Monchi Non so chi sia Però lo leggiamo lo stesso perché non so chi sia Conosco la sofferenza Conosco la sofferenza Quello che si sente Il dolore che si prova Per purtroppo Perché purtroppo l'ho vissuto In prima persona Con lo sfortunato Antonio Puerta Scusate l'ignoranza Tifo calcio ma non so chi è Antonio Puerta Auguro Molto coraggio Ai suoi familiari Ai suoi amici E ai suoi compagni Alla Fiorentina E al calcio italiano Rip Davide Astori Andrea Pirlo pure Senza parole Alla fine se ne vanno Sempre migliori Buon viaggio Amico migliore Guardate quanti ce ne sono raga E Se non riesco a reggerli tutti Lo divido in due parti il video Si Lo divido in due parti per se non il video La prima parte magari Ora Quest'orario alle 5 E poi sarò un pochino più tardi Il Genoa CFC Parteficiva al lutto Per l'improvviso Sa scomparsa del nazionale E capitano Di AC Fiorentina Davide Astori La partita Giona Cagliari E' stata rinviata A data Da destinatari Non si capisce niente Perché E' Ralf E' spagnolo Non so leggere Aspettate Ah Qua c'è la traduzione AC Fiorentina Mandiamo alle nostre sentite condurianze familiari Amici di Davide Astori E a tutta la famiglia della AC Fiorentina Udinese Calcio A seguito della tragica notizia di questa mattina Che ha colpito La CF La Fiorentina sarebbe E' tutto il mondo del calcio Su disposizione della Lega Della Lega Della Lega La partita Udinese Fiorentina E' stata rinviata A data Da destinatari A breve ulteriori comunicazioni Non lo riesco Pure Marcos Llorente Giocatore da Real Madrid Spagnolo Schappoense La squadra Schappoense Sente profondamente la morte del capitano Di AC Fiorentina Davide Astori Il nostro dolore E' la nostra profonda sestanzione Verso la famiglia Astori I colleghi E gli amici del giocatore Astori Fiorentino Mattias Vecino Riposa in pace Asto Resteranno sempre nel mio cuore I momenti vissuti assieme In un forte abbraccio Alla famiglia Sono senza parole Una notizia terrabenda Poi Mirabelli Allora ragazzi Facciamo così Concludo per ora Questa parte E' la prossima parte Ora questa prima parte Esce ora La seconda parte Esce o alle 7 O dopo Alle 7 Quindi ragazzi Io direi che Posso concludere qua Questa prima parte Su il video di Astori Noi ci rivediamo Stasera Sempre al prossimo video Per Astori Rip Astori Scusa No Che scusa Mi dispiace tantissimo A stasera Insieme